Sergio Camin, Kimba. Era l'unico zio che non chiamavamo zio, lo zio Nino. Era il più giovane dei fratelli di mio padre e aveva una macchina fotografica grande, nera, con il cavalletto d'acciaio. Avevo circa dieci anni e mi fece alcune foto mentre dormivo. Fu allora che scoprì come dormo. Straiato sulla schiena, il braccio destro piegato sugli occhi. Testimonianze più recenti mi confermano che negli anni non è cambiato nulla. Sulla schiena, il braccio destro piegato sugli occhi. Circa due anni fa cominciai ad avere le prime difficoltà. Facevo fatica ad addormentarmi, gli occhi fissi e poi un sonno interrotto sempre più spesso. Mi abituai lentamente ad usare le ore della notte. La mattina non ero mai stanco. Cominciai con la lettura per poi arrivare al lavoro, al disegno e poi... e poi i due passi in città e poi la gita in bicicletta e la mattina non ero mai stanco. La mia giornata si sta ormai avvicinando alle 48 ore. Le uniche differenze sono date dalla luce e dal rumore. Non sono stanco e Claudia non riesce a crederci. Solo pochi giorni fa mi sono accorto del gatto ed è ormai più di un anno che non dormo più. Un gatto completamente bianco e completamente sordo. Kimba, che mia figlia due anni fa trovò piccolissimo nel motore della mia macchina. Lo vidi che dormiva dietro al divano, ma non dormiva come fanno i gatti. Stava straiato, straiato sulla schiena con la zampa destra piegata a coprire gli occhi. Ancora non so se mi ha rubato i sogni o regalato le notti. Grazie. 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 Grazie.